bentornato gutier bentornata ora ci avviamo a dare una spiegazione di un pulsante molto importante start è quello che ti permette di eseguire innanzitutto cos'è è il pulsante che trovi in basso a sinistra nella barra delle applicazioni quello con il simbolo della microsoft per capirci in questa zona può offrire diverse opzioni in base a come ci clicchi sopra col mouse o con il pulsante destro con il pulsante a sinistro risultato sarà anche leggermente diverso se utilizzi un tablet o uno smartphone con windows 10 installato cliccando con il tasto destro del mouse accedi ad un menu che hai visto già in windows 8.1 al cui interno trovi una lista di sezioni delle impostazioni del pannello di controllo che tratteremo in seguito ma comunque che già sicuramente ben conosci dai precedenti sistemi operativi cliccando invece con il pulsante sinistro si apre un menu che ti consente di visualizzare diversi elementi si aprirà un'interfaccia che sul lato destro presenta un menu a piastrelle che già conosci e presente in windows 8 in esso può interagire con le piastrelle come già imparato nella lezione 143 e il relativo video tutorial puoi incrementare il numero di icone trascinandole direttamente in alto trovi il nome utente che ha avviato il sistema operativo cliccando sopra visualizza un piccolo menu che ti permette di accedere alla sezione di modifica dell'account oppure per gestirlo subito sotto trovi il pulsante blocca con cui può bloccare il pc o meglio posizionarlo sulla schermata di blocco che se l'ha impostata ti permetterà di richiedere la password per poter accedere di nuovo al desktop non si chiuderanno in questo caso i programmi avviati infine trovi il pulsante disconnetti che chiuderà tutte le applicazioni avviate e disconnetterà l'utente dal sistema operativo anche in questo caso potrebbe essere richiesta una password per accedere di nuovo al desktop se l'ha impostata sotto l'icona del nome trovi la lista delle applicazioni utilizzate più frequentemente per poterle aprire rapidamente in caso di serva senza perdere tempo nel ricercarle ancora sotto la lista delle applicazioni installate recentemente anche in questo caso per un accesso più rapido all'eseguibile sotto ancora trovi il pulsante che ti consente di aprire il programma esplora file e di seguito quello che ti dà accesso alla sezione delle impostazioni a cui dedicherò attenzione in futuro scendendo ancora trovi il pulsante di alimentazione del sistema operativo cliccaci sopra per vedere le opzioni che saranno sospendi arresta il sistema o riavvia il sistema cliccando sulla prima il pc rimane acceso con un minimo consumo energetico le applicazioni infatti rimangono aperte in modo da essere presenti alla riattivazione del pc esso si posizionerà in una condizione di ibernazione tipo stand by compreso il monitor il processore con la ventola annessa per i tagli vita potrai premere il tasto di accensione che di norma lampeggerà muovendo il mouse o seppure l'avessi sulla tastiera un tasto funzione dedicato per la riaccensione il pulsante arresto pc invece chiude tutti i programmi e spegne il computer mentre il terzo pur chiudendo tutti i programmi lo riavvia semplicemente sotto questo pulsante potrai trovare la scritta tutte le app che ti consente di accedere ad una lista molto lunga di programmi preinstallati col sistema operativo e quelli che in seguito avrai installato autonomamente la visualizzazione è in colonna ma cliccando sul pulsante 09 la trasformerai in lettere così come in questo screenshot per un accesso agli elementi tramite nome la lista delle applicazioni si presenta come icone o cartelle ogni icona o applicazione avrà un proprio sottomenu che genererai cliccandoci sopra con il pulsante destro del mouse altre avranno una freccia tipo il segno di maggiore così riportato alla destra dell'icona stessa come puoi vedere in questo screenshot che può generare anche menu in cascata cliccandoci sopra vedrai appunto cosa ti può offrire potrai aggiungere al menu start il collegamento del programma oppure rimuoverlo se già presente o ancora aggiungerlo alla barra delle applicazioni se l'utilizzo che ne fai è frequentissimo potrai eseguire il programma come amministratore se per il suo avvio necessitano tali credenziali oppure potrai aprire il percorso dell'eseguibile dove è ubicato oppure non mostrare più nell'elenco in questo specifico menu potrai accedere alla sezione dedicata per disinstallare il programma visionare le proprietà ed altre funzioni che possono essere specifiche per il programma o l'elemento tornando a spiegare la sezione delle piastrelle ricorderai la versatilità posizionando il mouse sui bordi potrai ridimensionare in altezza e larghezza questo menu per una migliore visualizzazione ogni piastrella può essere personalizzata in dimensioni piccola media orizzontale o grande e in base alla posizione alcune sono anche animate con continui aggiornamenti grazie alla connessione ad internet e potrai anche disattivare la loro animazione se non ti piace rimarranno immagini statiche in questo caso cliccandoci sopra con il pulsante sinistro del mouse e spostandole quindi trascinandole potrai anche organizzarle in categorie oppure creare dei gruppi dandogli dei nomi a tuo piacere c'è dall'altro da aggiungere sicuramente esiste una sezione dedicata alla gestione del menu start clicca sul pulsante start individa il pulsante impostazioni e poi la sezione personalizzazione giunto qui scegli la sottosezione start come mostrato in questo screenshot troverai dei cursori che potranno attivare o disattivare la relativa opzione che sarà mostra più riguadri mostra occasionalmente suggerimenti in start mostra le applicazioni più usate mostra le applicazioni aggiunte di recente usa modalità a schermo intero per start mostra gli elementi aperti di recente nelle jump list in start oppure quelle nella barra delle applicazioni cosa sono tutte queste opzioni la prima permette di visualizzare molte più piastrelle qualora ce ne fossero da visualizzare appunto la seconda opzione visualizza alcune applicazioni consigliate all'interno del menu start la successiva opzioni la lista delle applicazioni che utilizzerai di più e la quarta invece la lista dei programmi che ultimamente ha installato la quinta opzione trasforma il menu start a schermo intero tornando all'interfaccia che già conosci in windows 8 quindi riempierà totalmente lo schermo l'ultima ti mostra gli elementi file che sono stati aperti di recente nei vari programmi visualizzandoli all'interno dei menu della cartella del programma insieme ad altre opzioni qui rappresentata appunto da questo screenshot ciò può essere visualizzato nelle liste dei programmi recenti nel menu start oppure anche nella barra delle applicazioni come rappresentato in figura su ognuno di questi elementi a sua volta potrà essere generato un proprio menu col tasto destro del mouse per la gestione di questi elementi in maniera singola sotto dall'elenco infine c'è un pulsante con la scritta scegli le cartelle da visualizzare in start cliccandoci sopra troverai altri pulsori che permetteranno di attivare o disattivare la funzione stessa che ti consentirà di aumentare il numero di elementi di pulsanti che troverai all'interno del menu start una maggiore o minore rapidità di accesso agli elementi stessi per evitare di andarli a cercare eccone la lista esplora file impostazioni documenti download musica immagini video gruppo home rete e cartella personale come puoi vedere un'ampia scelta per poter personalizzare al tuo meglio il menu start a te il piacere di attivarle o disattivarli eccoci guider in zona pratica allora vediamoci nel menu start cliccando con il pulsante destro puoi vedere la lista delle funzioni applicazioni che già conosci e sono stati trattati nei precedenti sistemi operativi e comunque ci torneremo in seguito invece cliccando con il pulsante sinistro del mouse accedi alla sezione del menu start sul lato destro puoi trovare le piastrelle che già conosci da windows 8 con le stesse puoi interagire cliccando direttamente puoi aprire l'applicazione relativa chiudiamola e torniamo alla descrizione puoi anche interagire cliccando con il pulsante destro puoi decidere se rimuovere dalla sezione start ridimensionare questo pulsante facendo trasformare in piccolo oppure ingrandendolo in senso orizzontale o direttamente grande ma lo riposizioniamo nella condizione di medio alcune sono animate cliccandoci anche sotto puoi decidere di disattivare il riquadro animato e rimarrà un'immagine statica oppure riattivarlo a tuo piacere altro menu che si può creare aggiungere alla barra delle applicazioni quindi questa icona con l'applicazione annessa si posizionerà nella barra delle applicazioni come puoi vedere e da qui possiamo anche rimuoverla se non ci serve più possiamo anche in seguito volendo votare commentare o condividere le applicazioni puoi anche spostare queste piastrelle a tuo piacere e creare una zona dedicata con la quale potrai anche fornire un'interstazione quindi creare dei gruppi personalizzati che adesso chiamo nuova categoria per semplicità dalla sezione relativa all'interstazione potrai anche rimuovere oppure cambiare nome a tuo piacere oppure tornare alla vecchia posizione qualora non ti serva più questa categoria come vedi è possibile interagire in maniera molto semplice e versatile con le applicazioni il menu potrà essere anche ridimensionato in base alle tue necessità e in base al numero di icone che troverai man mano nel menu puoi anche aggiungere altre piastrelle trascinandole dal menu applicazioni come vedi con una grossa semplicità tornando a parlare del menu in alto trovi il pulsante che indica il nome della persona dell'udente che ha avuto accesso a questo computer cliccando su modifica impostazioni account accederai alla sezione dedicata che in seguito tratteremo per la modifica e la gestione del tuo account altre funzionalità permettono di bloccare il computer cliccando su questo pulsante posizionerai il computer nella modalità di blocco come vedi in questo caso le applicazioni non si chiudono e potrai di accedere al desktop con semplicità mentre se invece disconnetti verrà disconnesso l'utente e le applicazioni aperte saranno chiuse sotto trovi la lista delle applicazioni utilizzate di recenti e qualora le avessi installate anche le applicazioni ultime installate in questa zona poi il pulsante esplora file che ti permette di aprire il programma esplora file come quello presente nella barra delle applicazioni chiudiamolo torniamo al menu puoi vedere che alcune icone presentano una freccia che ti dà la possibilità di visualizzare altri elementi e quindi interagire con questa cartella con questo elemento grazie ai nuovi menu che si creano puoi notare che il menu può essere diverso in base al tipo di elemento che andrà a selezionare e si creeranno anche le jump list se abilitate che ti spiegherò in seguito altro pulsante che trovi è quello delle impostazioni quindi per accedere alla sezione impostazioni anche questa molto corposa che tratterò in seguito subito sotto il pulsante arresta che ti permette di disalimentare il sistema operativo il pc il pulsante sospendi permette di mantenere il pc alimentato con consumi al minimo tutte le applicazioni non si disattiveranno e ti permetterà così di riattivare la funzionalità in tempo più breve anche a costo di un piccolo consumo di corrente il pulsante arresta naturalmente chiude tutte le applicazioni e spegne il pc il pulsante riavvia chiude tutte le applicazioni e semplicemente riavvia il computer subito sotto il pulsante arresta trovi il pulsante tutte le app cliccandoci sopra si aprirà la lista delle impostazioni già preinstallate all'interno del sistema operativo e puoi variare la visualizzazione passando da quella colonna a quella lettera per un accesso più rapido all'applicazione alla zona di competenza ripeto su ogni applicazione puoi generare un menu che può essere diverso in base al tipo di applicazione in taluni puoi anche accedere direttamente alla sezione per poter disinstallare l'applicazione oppure come in questo caso specifico puoi disinstallare direttamente le applicazioni qualora tu voglia in taluni casi dal menu che si può generare poi individuare anche una cosa molto comoda andare individuare direttamente il percorso del file quindi dove è posizionato l'eseguibile se tu vuoi interagire creare un collegamento direttamente con questo programma oppure potrai anche decidere di eseguire questa funzionalità quindi questo programma come amministratore sfruttando l'opzione relativa esegui come amministratore qualora quel determinato programma abbia la necessità di queste credenziali per essere avviato altra possibilità in relazione al menu start è relativa al pulsante appunto impostazioni che grazie all'opzione di personalizzazione ti permette di accedere ad un'altra sezione dedicata allo stesso che ti permette grazie a dei cursori di selezionare o di selezionare una relativa opzione come in questo caso mostrerà più riguardi quindi qualora fossero presenti come puoi vedere più icone più programmi installati avrai un menu start a piastelle molto più ampio a te la scelta se attivare o disattivare questi cursori mostra occasionalmente suggerimenti in start potresti visionare in questa zona saltuariamente dei suggerimenti per scegliere alcune applicazioni magari nuove e pubblicate mostra le applicazioni più usate è qui presente naturalmente in questa zona puoi disattivarlo e ti scompare questa possibilità come puoi vedere in diretta mostra le applicazioni aggiunte di recente ti permette sempre nella zona subito sotto il nome di poter visionare le applicazioni che hai ultimamente installato usa modalità a schermo intero per start ti consentirà di visionare il menu start a piano schermo eccolo qua tornerai ad una visualizzazione tipica di windows 8.1 ritorniamo ad una visualizzazione meno grossolana mostra gli elementi aperti di recente in jump list o nella barra delle applicazioni se lo attivi o lo disattivi avrai la possibilità di visionare una lista più o meno ampia sia nei programmi presenti nella barra delle applicazioni come in questo caso e all'interno puoi creare anche un menu che ti permette di interagire con gli stessi oppure nella jump list la puoi trovare in base alle applicazioni che ultimamente hai aperto come in questo caso per un programma di grafica che ho aperto qualche secondo prima di iniziare la lezione cliccando con il destro troverai appunto le ultime foto le ultime immagini aperte in questo specifico programma quindi qualsiasi programma tu aprissi in base al tipo di file che vai ad aprire sia un file di testo un immagine un video in base al programma che lo apre potrai avere questa ulteriore pubblicazione degli ultimi elementi aperti per un più rapido accesso infine c'è un pulsante scegli le cartelle da visualizzare in menu start che va ad aprire un'altra sezione con altri cursori che ti permettono di selezionare o deselezionare la rispettiva funzionalità in questo caso ti faccio vedere che andando ad abilitare tutti i cursori presenti in questa lista e cliccando sul pulsante start troverai popolati i nuovi elementi che ti permetteranno di accedere in maniera molto più semplice e rapida alla cartella o ai file per una miglior gestione del computer e del sistema operativo nella prossima lezione continuerò a darti nuove informazioni per windows 10 ora un forte saluto ciao a presto da gallo e dalla prossima ciao a presto ciao ciao